We can make this one's gone 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 Allora, voglio sapere nei commenti Intanto che si avvia Se vi piace questo Cioè, insomma, questa nuova serie Di Angry Shark Questo nuovo gioco di squali Allora, fatelo sapere qui sotto nei commenti Ragazzi Nel frattempo, ecco qua ragazzi Che voglio, insomma, provare il nuovo squalo Balena Se mi ricordo bene si chiama Balena Abbassiamo un po' il volume Ok Allora Io ho già spiegato questo gioco più o meno Come funziona Quindi, se non lo sapete Andate subito a vedere In descrizione vi lascerò Il link del video precedente Episodio 1 Di questo gioco Andiamo a fare una partita Ok Mamma mia Mamma mia Ci siamo, ci siamo Ok Ok Allora Qua io devo trovare tutte quelle benedette lettere Che formano Landri formano Ok Allora, mangiamo un po' di pinguini Insomma, così Giusto per farci un po' di punti Mamma mia Le sardine Le sardine Le sardine Allora Io la spingi per distruggere Ma non spingere Lasciamo stare Mangiamo tutti i pesci Le circostanze intorno a noi Mamma mia ragazzi Allora Per 10 Allora Dobbiamo fare un bel po' di punti Quindi Mangiamoci un po' di tutto Ehm Stai buono zio Che io ti posso mangiare quando e dove voglio Ok ok Mamma quanti pesci mamma Pure il diamante mi ha dato E ci siamo Ci siamo Allora L'H Sì è di là Quindi andiamo verso l'H ragazzi Vai Ok Non ne lascio uno ragazzi Non ne lascio nemmeno uno Forse qualcuno Ma vabbè Eccola Che abbiamo preso Bello preciso E' il dorado Però adesso vediamo un attimo dove sta l'altra lettera La U E' sta di là Andiamo verso destra E' Vediamo un po' cosa Mangia Ehm Stai buono Che c'ho il dorado E' Magno tutto O quasi Vai 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 Ehm Pesce diamante Piglialo Bello bello Diamante per noi Bellissimo Me gusta raga Sti cacchio di Di Non so cosa sono Di pungolo sempre Ok La pallinottera L'abbiamo di dorata Ok Ehm Spacco tutto Venite qua venite Che qua ho fame Di voi Umani Umani Come se io non fossi un umano Nuovo livello Mamma mia E si fa così ragazzi Fino A non so quando Ah non lo so io Ehi Stai buono Stai buono Veramente Ehm Non me freghi Ok Bello lo stile di questo mio squalo Che veramente Mangia quello Ok Ci siamo E' il dorado Però adesso vediamo la U Dove capro si trova Ok Dai che c'ho il dorado Non so cosa hai detto Però va bene Dai che c'ho il dorado Porca vacca Miseria Ehi Forziere Prendiamo il forziere Prendi Oh Sto dicendo mai prendere il forziere Ok Balinottera per noi Che ci trascina la bomba Va bene Vai Mamma mia Quante balinottere Allora Io non so dove sia Ancora una balinottera Mamma mia Eccola U Perfetto Quella cercavo Infatti Oh yes Questa pieno Spesso di pesci Infatti E sti sardine A questa parte di mappa Stanno là per tutto le sardine All'Ocean Qualcosa Non mi ricordo Ok E' addirittura Due di fila qui Vai L'Eldorado Ragazzi Mamma L'Eldorado Che facciamo Non si sa Non si sa quanti Ne facciamo In questo episodio Mega E' il Dorado Mega John Si Qua si mangia tutto E' qua proprio Pure l'Eldorado Vai Distruggiamo tutto Ragazzi Sono un bello Bestiale proprio Ok Dopo questa Cazzata Andiamo a divorare Tutto quando E prendere L'altra lettera Quanti pesci Quanti pesci Mo' faccio Un Dorado Di seguito Ok Ok Yes Mamma mia Oh l'elicottero Via di lì Via Via Ok Ok Mamma mia Ragazzi Queste sardine Stanno dappertutto Ok Le sardine ragazzi Stanno dappertutto Vabbè Comunque qua ci dobbiamo andare Perché ce l'elicottero Che ci tempesta Di Missili Quindi Via Ok Dobbiamo stare attenti pure a quelle Vedete Sacrosante bombe Di merda Insomma Che sta pieno E due squaloni Questi ti permettono di fare del dorado Come se non ci fossi un domani Ragazzi Vai 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 E la bomba Attenzione È È il dorado Lo sapevo raga È il dorado Vai 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 Eccola G Sta proprio qui sopra Beh Dove sta l'elicottero Ovviamente Vai Prendila G Prendila E battene Battene Partene Sto di Ok Cavolo Stiamo per morire Dobbiamo un attimo Attrezzarci di pesci Se no È impossibile Vediamo dove sta la R La R ovviamente Sfalculizzata Laddove Ci permetterà di morire Vediamo un po' se riusciamo a salvarci Con qualche pesce Eh C'è lo squalone Vai Lo squalone Grande E ripristiamo tutta la vita ragazzi Quella che insomma Ci serve Vai che non me ne frega niente Ormai ho fatto più di un milione Dai Però devo fare l'angri Se no non c'è gusto Vai Ho fatto di tutto Ho fatto il dorado Mega il dorado Ora ci manca l'angri Attenzione Ok Vai 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 Eh Arrivo Però prima devo divorare qualcuno Se no Il mio squalo muore Di fame proprio Ok E lo squalone Quello è mio Oh è possibile Mannaggia Ecco qui lo squalo diamante Ragazzi Questa partita La vedo che va 2 milioni di punteggio Però ancora non ho detto niente Perché non si sa Vediamo Andiamo a prendere la lettera R Che saranno i paraggi Mi ricordo Nuovo livello Perfetto Vai 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 Voglio il dorado adesso Adesso raga Vai 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 così Vai così Perfetto raga Allora Affamato E devo maniare tutto Praticamente No No Valle notte Bravo Bravo Non mi La miseria Ah Porca Bene ragazzi Abbiamo saltato il video di Per farci rientrare Video pubblicità E ci andiamo via Perché quello ci massacra di botte Ma le botte proprio E' il dorado attivato Il quarantesimo di fila ragazzi Eh mamma Qua è pieno di pesci potenti proprio Proprio quelli tosti ragazzi Allora Vediamo un attimo Sì A vedere dove sta la Y L'ultima lettera Per permetterci di fare l'angry Così almeno Insomma Aumentiamo il punteggio E i soldi che ci vengono in tasca Cioè Non in tasca mia In tasca del gioco Sì vabbè Continuiamo la nostra Nostro game No via di lì Via di lì che quello No raga Sono morto Ma noi facciamo l'entrata gratis Bene siamo entrati per la seconda volta Abbiamo saltato il video Perché non ve lo vado a far vedere Però è bruttissimo A dire sincera verità Andiamo a vedere questa ultima Lettera Se possiamo Riusciamo a prenderla Allora sì Le sardine Ovunque e comunque Ragazzi Mamma quante sardine Mamma mia Mi sto emozionando ragazzi Ok Attenzione alle bombe giganti Perché Se ci vai si schiatta in una botta Ok Sta sopra Oddio Affamato Vediamo se riusciamo A prendere quella lettera Sì Attiviamo pure il dorado Grande Angry ci permette di crescere di potenza Di mangiarci tutto raga Vai 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 E qua Qua vorrei Un mega dorado Che Ah andiamo al sottomaglino Vieni qua vieni qua Ti faccio vedere io eh Ok Ma magna tutto Il dorado vai Eeeh Ce mangiamo tutto Pure lo squalone Quello gigantone Vai raga A me piace tantissimo L'endorado Con l'angri Che è più grande Ottio Attenzione Più grande Ti permette di mangiare Insomma Più cosa Anche i squaloni Quelli la che avete appena visto E' bellissimo Ecco Ecco andiamo così ragazzi Abbiamo superato i 2 milioni Eeeh Andiamo a rifare l'angri Speriamo di rifarlo Vediamo un po' che succede Ste sardine Mi hanno un po' scocciato Perché Stanno sempre Non ti saziano Cioè perlomeno Non saziano lo squalo Mio lì Va bene Avrete capito ragazzi Ok Andiamo a prendere questa benedetta Eeeh Bello 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 Vieni qua Vieni qua zio Non te ne andare zio Per favore No ragazzi Com'è possibile Ho beccato Ho beccato Quello diretto Proprio La bomba gigante Porca Va bene ragazzi Purtroppo Eeeh Finita la partita Ho dovuto Finirla Siamo saliti di 2 livelli Ben 2 livelli Con 6.000 erotti Di oro Insomma Ci si aggiungono Al nostro portafoglio Vabbè ragazzi Questo video vi ho terminato qui Vi ricordo di mettere il mi piace Di commentare Iscrivetevi Fatemi sapere se vi è piaciuto questo gioco Quindi commentate qui sotto Ragazzi In descrizione vi lascio come sempre Il link della pagina Facebook E pagina di Google Plus Vi lascite pure dell'episodio precedente E per superare è tutto ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi